Io e mia sua sorella saranno solo amici. Ci siamo baciati. Ieri sera io e Marco ci siamo baciati. Con un appuntamento, devo andare, scusate. Con chi? Con il tuo sorella. Giovanni, che ci fai qua? È una storia lunga. Non mi toccare. Quello è mio padre. Io sono figlia di un mostro. Non c'è un mostro ora, non lo sarei mai. Te lo ciura pagherà. Ma ha paura di perdere il peggiore nemico dello scacchista? Don Matteo. Scaccavato! 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 Don Matteo 11. Questa sera alle 21.25 in prima visione. Rai 1.